Grave incidente stradale questa mattina sulla Bussentina, poco distante dall'uscita di Sanza. Quattro veicoli, tre furgoni ed un'autovettura per causa in corso di accertamento si sono scontrati. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, guidati dal capo squadra Eugenio Siena e dei colleghi di Policastro. Alcune persone nell'impatto infatti sono rimaste incastrate nelle lamiere. Il bilancio è di quattro feriti, uno in condizioni molto serie. Si tratta del conducente dell'autovettura, una Volkswagen, che è stato trasportato con un'eliambulanza all'ospedale di Salerno. Le ambulanze del 118 presenti sul posto hanno provveduto a trasportare gli altri tre feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è stata chiusa al traffico, la circolazione ha subito gravi rallentamenti. Ed intanto sempre questa mattina a Montesano Scalo, gravi disagi alla circolazione si sono registrati a causa della perdita da parte di un grosso camion del suo carico costituito da pietre. Si tratta di pietre anche di notevoli dimensioni che hanno provocato inevitabilmente grossi disagi alla circolazione a Montesano Scalo. Una parte della strada infatti è stata completamente ricoperta dai massi.